Siamo alla terza edizione del concorso a scuola di Astro Particelle in compagnia di una delle organizzatrici Carla Aramo. Anche quest'anno, terza edizione, un grandissimo successo e i ragazzi quest'anno sono sembrati anche più consapevoli dei lavori fatti in classe. Quest'anno, come devo dire la verità per tutti i progetti che portiamo avanti, essendo la terza edizione i tutor, quindi i professori, i docenti e anche gli studenti sono più consapevoli delle attività che devono essere in qualche modo sviluppate e poi anche raccontate. Quindi abbiamo trovato una maggiore partecipazione e anche possibilità di raccontare con maggior dettaglio il lavoro che avevano fatto. Perché si preparano in maniera, come dicevo, più consapevole e anche guidati dai loro decenti e dai loro tutor dell'INFN, del Dipartimento, del CNR. E questo si vede nella manifestazione finale, viene fuori proprio questa loro consapevolezza e per noi ovviamente è solo soddisfazione perché vediamo il risultato di un lavoro che oramai appunto viene portato avanti da tre anni e che in qualche modo ci consente di portare nelle scuole tra gli studenti la ricerca, le attività di ricerca che noi nel nostro quotidiano portiamo avanti. E questo ci gratifica moltissimo vedere questi giovani appassionarsi ai temi di ricerca e poi farli propri al punto da presentarli come se veramente fossero ad un workshop di fisica. È una soddisfazione enorme e questo l'abbiamo visto nella manifestazione finale di premiazione, il loro coinvolgimento è sempre maggiore e anche appunto il loro grado di preparazione. Quindi sono veramente soddisfatta, quest'anno è sempre un crescendo e quindi ci spinge anche ad andare avanti nei prossimi anni. È dura, infatti siamo veramente stanchi, distrutti però penso che sia questa la direzione giusta per farci conoscere come ricercatori al di fuori dei nostri laboratori. Dobbiamo andare, siamo noi che dobbiamo in qualche modo andare fuori, lo facciamo nelle classi, nelle scuole, lo facciamo tra la gente, e lo facciamo tra il pubblico con non solo questa manifestazione importante che coinvolge 600 ragazzi, 18 scuole, 21 progetti, ma lo facciamo anche poi portando gli stessi ragazzi fuori al grande pubblico. A tal proposito c'è una novità, un nuovo progetto che è quello della Notte dei Ricercatori, ce ne parli un po'? Sì, non è nuovo nel senso che è un progetto della Comunità Europea, finanziato dalla Comunità Europea, con tanti progetti che poi coinvolgono le varie nazioni. L'Italia ha tanti progetti approvati, uno di questi è Sharper, una notte dei ricercatori, una collaborazione che coinvolge varie città italiane, e che è stato uno dei progetti approvati l'anno scorso perché i progetti sono biennali, che ha avuto uno score più alto, quasi il massimo, 14.5 su 15, quindi insomma un progetto che ha avuto una valutazione importante e che quest'anno abbiamo deciso, nel secondo anno di attività di Sharper, abbiamo deciso di aprire anche alla partecipazione delle scuole, non come soggetti passivi, nel senso fruitori dei vari stand che il 27 settembre prossimo mostreremo appunto nella Notte dei Ricercatori nella città di Napoli e Caserta, ma loro stessi protagonisti. Quindi questa manifestazione ci ha dato la possibilità di formarli come dei piccoli ricercatori per poi andare loro stessi nelle strade, nelle piazze della città a raccontare al grande pubblico cosa si fa nei centri di ricerca e all'università. Io credo che questo sia veramente un punto importantissimo nelle attività che facciamo appunto tra i ragazzi. Da un lato perché loro si sentono protagonisti, dall'altro perché veramente sperimentano dal vivo e con cognizione di causa le attività che noi portiamo avanti ovviamente nel nostro quotidiano di ricerca. Sì perché effettivamente voi ragazzi riescono a ricevere anche un feedback dall'esterno, con il grande pubblico, anche nella spiegazione dei lavori, poi nei confronti di persone che magari non sono del campo. Sì, infatti, come posso dire, l'idea del concorso, perché noi avremmo potuto fare un percorso ovviamente che a quel punto si concludeva con la presentazione delle attività e basta. Perché per noi è importante il concorso? È importante perché c'è una commissione che va negli stand, ascolta le presentazioni orali e quindi loro in qualche modo devono prepararsi per affrontare anche il racconto di quello che hanno fatto. E questo li mette in condizioni poi di essere pronti per poter poi a loro volta portarlo fuori, ovviamente dall'università, che è ovviamente un ambiente protetto. Loro invece li formiamo anche per andare fuori e confrontarsi con il grande pubblico. E sicuramente, io penso, sarà nella loro vita molto importante questo, anche se non seguiranno poi percorsi, diciamo, scientifici nelle loro scelte future. Spero che questo momento gli sia molto utile per affrontare poi qualsiasi tipologia di attività che poi affronteranno e sceglieranno per il loro futuro. E questo è un'altra delle motivazioni che ci spingono a impostare le attività in questo modo. Quindi il concorso serve non solo, avete visto l'entusiasmo che c'è alla fine, perché loro veramente ci credono, si impegnano, quindi sono contenti ovviamente di vincere, ma tutti quanti per il sol fatto di presentare le attività e di affrontare il concorso, credo che siano in qualche modo consapevoli di cosa e di come impostare questa attività. E quindi, diciamo, ben venga questa competizione che fa arrivare a questo risultato. Ci sono delle novità sul progetto, sul concorso Astroparticelle quest'anno e anche per l'anno prossimo, mi sa, eh? Sì, a parte questa partecipazione attiva alla Scuola di Astroparticelle alla Notte dei Ricercatori, c'è l'ingresso nuovo dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, tra i proponenti, quindi, e con l'arricchimento di percorsi da fare all'osservatorio di Capodimonte. Questo ovviamente non ci fa che piacere per questa attività. Quindi al CNR, ovviamente all'INFN, il mio ente e all'università abbiamo anche quest'altra parte che arricchirà sicuramente appunto lo scenario delle attività. E oltre a questo ci sarà anche, c'è anche il fatto che a Scuola di Astroparticelle è inserito in un più ampio panorama, diciamo, INFN nazionale appunto, che a nome Ocra, finanziato dal comitato terza missione dell'INFN, quindi quello che si occupa appunto dell'outreach, quindi quello che è oltre la ricerca, quindi nella società, quindi portare la ricerca fuori dagli ambiti canonici, appunto si chiama Ocra, Outreach Cosmic Ray Activity, che è in qualche modo un contenitore finanziato appunto dall'INFN che ingloba e mette insieme tutti i progetti di fisica di raggi cosmici, astroparticellari, in 22 sedi diciamo nazionali dell'Italia, quindi siamo veramente tanti e quindi questo ci dà un respiro più ampio. In questo modo noi possiamo a quel punto anche avere delle attività che coinvolgono tutta Italia, come per esempio l'ICD, l'International Cosmic Day di novembre, coordinato da DESI, quindi dalla Germania, a cui partecipano tante nazioni europee, qualcuno anche appunto degli Americhe, che ci permette di avere una giornata dedicata ai raggi cosmici, fare una misura di flusso dei muoni e confrontarci poi attraverso delle videoconferenze con tutte le altre sedi che partecipano alla manifestazione. E questo è il punto per selezionare da tutte le sedi di Ocra due studenti da mandare a fare uno stage in primavera, quest'anno l'abbiamo avuto ai laboratori nazionali del Gran Sasso, siamo stati lì per tre giorni, i ragazzi hanno veramente avuto un'esperienza fantastica, così sarà l'anno prossimo, pensiamo di fare un'attività mandando dei rivelatori con un pallone in atmosfera, per vedere la differenza appunto di conteggi mano a mano che si va nell'atmosfera e quindi diciamo in questo modo i ragazzi salizionati qui a Napoli si interfacceranno con tutti gli altri delle 22 sedi, quindi saranno 50 studenti lì a Frascati dove avverrà questo stage ed è veramente dal mio punto di vista diciamo veramente una condivisione e penso che sia questa la direzione giusta. Grazie.